Monza Inter 2 a 2 perdonatemi ragazzi ma oggi devo un po' arrabbiarmi per alcune cose che ho letto che ho sentito e che ho visto in queste ore dopo il deludente pareggio dell'Inter di Inzaghi contro il Monza di Palladino abbiamo già fatto due contenuti a riguardo oltre alla nostra diretta dove trovate la cronaca e le emozioni live della partita li trovate già sui nostri canali da una parte l'analisi a caldissimo mia e di Lorenzo e dall'altra le pagelle dei tifosi con i nostri abbonati al club e tutta la community in questo contenuto voglio concentrarmi su 4 o 5 temi che secondo me sono molto importanti della partita di ieri e provare a dirvi la mia anche rispetto a tutto quello che si è detto poi nelle ore successive vi chiedo come sempre fin da subito un clic sul tasto mi piace e sul tasto iscriviti al canale così non vi perdete tutti i prossimi contenuti parto togliendomi subito il dente e il dolore ovvero la polemica arbitrale non voglio ignorare questo discorso perché non ha senso farlo la questione arbitrale è stata una di quelle che ha avuto maggiore peso nella partita di ieri l'arbitro Juan Luca Sacchi secondo me non ha arbitrato bene a livello proprio di gestione della partita fino dal primo minuto fino al novantesimo e poi a livello di singoli episodi ci sono due episodi che hanno macchiato fortemente alla sua prestazione da una parte un possibile calcio di rigore per fallo di Acerbi intorno al minuto 2 e dall'altra un fallo sempre con Acerbi protagonista che questa volta però è la vittima tra virgolette perché Acerbi di testa aveva trovato il gol del 3 a 1 ma una frazione di secondo prima l'arbitro Sacchi ha fischiato un fallo pare di Gagliardini su Pablo Mari un fallo che però non esiste perché Pablo Mari cade inciampandosi sul piede di Izzo suo compagno di squadra io parto col dire subito questo per come la vedo io la prestazione arbitrale all'interno di una partita e la prestazione della squadra fanno parte di due discorsi che sono veri e sono presenti entrambi e che non ha senso mischiare ognuno di noi può porre l'uno a giustificazione dell'altro come meglio crede c'è chi dice l'inter ha giocato malissimo però se l'arbitro non avesse fatto l'errore avrebbe vinto comunque 3 a 1 e c'è chi dice l'arbitro ha fatto un errore incredibile però se l'inter avesse giocato da inter avrebbe comunque dovuto vincere contro il Monza e sono assolutamente vere entrambe le cose io non riesco a dire che una è corretta e l'altra no sono esattamente vere tutte e due sono due discorsi che fanno parte di due piani distinti il calcio a differenza di altri sport come per esempio il basket è un gioco a punteggio molto basso perché si vince 1 a 0 2 a 1 3 a 1 raramente si va sopra i 5 gol complessivi a partita e uno sport che ha numericamente meno episodi decisivi in un match rispetto ad altri sport facevo appunto l'esempio del basket è quindi inevitabile per come la vedo io che un errore arbitrale debba essere considerato all'interno di un discorso e abbia quindi un peso specifico importante esempio pratico la juve domenica e mercoledì a cremona vince 1 a 0 dopo che al cremona alla cremonese viene annullato un gol per un fallo presunto che secondo me non esiste di dessers ai danni di danilo se quel fallo non viene fischiato e la cremonese vince 1 a 0 cambiano completamente tutti i discorsi esattamente come sarebbero cambiati se l'inter ieri avesse vinto quello che voglio dirvi quindi è che per come la vedo io è sbagliato porre l'errore arbitrale a giustificazione della prova negativa dell'inter e porre la prova negativa dell'inter a giustificazione dell'errore o a coprire l'errore arbitrale sono due cose presenti contemporaneamente l'inter ieri non vince perché gioca male e anche perché le viene annullato un gol che avrebbe chiuso la partita come ha detto giustamente Simone Inzaghi quindi io non riesco a porre l'una superiore all'altra mi limito però a far notare che il trattamento mediatico che sta ricevendo l'inter e questa purtroppo è una cosa che dovremmo già conoscere è ben diverso rispetto a quello che hanno subito altri club in passato lo stesso commentatore tecnico di Dazon Luca Marelli ma non è stato l'unico ha paragonato l'errore di Sacchi di ieri al famoso errore di Serra in Milan Spezia perché la dinamica è simile a un fischio troppo frettoloso che impedisce al VAR di venire in aiuto all'arbitro per cambiare la decisione al tempo si parlò di effetto Serra ci furono prime pagine con diciamo concentrate solo sull'arbitro come se la causa di quella gara fosse stato proprio l'arbitro questa volta non è accaduto tutto questo ecco mi limito a far notare questo poi ognuno tragga le proprie conclusioni a livello più pratico Inzaghi è stato l'uomo più accusato generalmente per il risultato di ieri io penso che se la squadra gioca male nel 90% dei suoi singoli ad eccezione forse di 2-3 giocatori e giocano male anche i subentrati io penso che il problema sia molto più ampio del singolo uomo che può essere Inzaghi o che può essere un giocatore tra l'altro nel prepartita anche nella nostra diretta qui su Passione Inter abbiamo fatto il solito gioco con la formazione di Inzaghi messa a paragone con la formazione che vorrebbe la community e in attacco vinse la coppia Lukaku Lautaro nel prepartita tutti volevano Lukaku titolare poi Lukaku scende in campo, fa una prestazione ai limiti dell'imbarazzante e allora la critica diventa perché hai fatto giocare Lukaku per esempio ha sbagliato i cambi, ho letto da alcuni ma i cambi sono stati Lukaku appunto che quando sei in difficoltà a livello proprio di gestione della partita credo che sia il cambio principale un giocatore che ti tiene sulla squadra ti dà pericolosità in profondità quindi per me ci stava al netto della condizione i due centrocampisti che però sono stati due cambi costretti io dubito che Inzaghi avesse in mente come piano gara di lasciare Mkhitaryan in campo 90 minuti e di cambiare gli altri due inserendo però gli unici due centrocampisti di riserva che aveva a disposizione e poi i due esterni che però se andate a vedere quando entrano in campo al minuto 80 a parte che l'Inter nei successivi 10 minuti ha il gol di Acerbi annullato e il palo di Lautaro poco prima che poteva chiudere la partita ma poi cambia un pochino l'approccio dell'Inter e la gestione della partita in questi ultimi 10 minuti in meglio quindi io fatico francamente a dire che i cambi siano stati sbagliati e fatico anche a dire quindi che la colpa sia solo di Inzaghi questo non vuol dire che Inzaghi non abbia colpe perché quando non vinci soprattutto giocando così le colpe sono un po' di tutti come dicevo mi sembra molto semplicistico dare le colpe come spesso accade solo all'allenatore tra l'altro non ha la mentalità ho sentito anche dire da Inter tre giorni prima ha battuto e distrutto il Napoli e io non sono, e qui mi arrabbio io non sono minimamente d'accordo e ne accetto che il pareggio di Monza vada a compromettere la vittoria col Napoli la compromette in termini di classifica cioè chi dice battere il Napoli è stato tra virgolette inutile se poi non batti il Monza è vero ci può stare ma la grande partita giocata dall'Inter contro il Napoli perché è stata una grande partita non può essere rimessa in discussione ridimensionata perché invece contro il Monza è giocato male non è possibile fare un discorso di questo tipo altrimenti non ne usciamo più perché sono già partiti i discorsi allora hai visto che forse è stato il Napoli ad aver giocato male e l'Inter in realtà ha fatto una partita normale non è vero l'Inter non ha fatto una partita normale contro il Napoli non sarà stato il Napoli migliore di questo inizio di stagione ma l'Inter ha fatto una grande partita e ha vinto e ieri sera altra partita altro discorso ha giocato male e non ha vinto punto Lukaku ragazzi dobbiamo parlare di Romero Lukaku io ho letto in tanti dire è stata la peggior prestazione di Lukaku da quando è all'Inter comprendendo anche la prima parte di esperienza all'Inter pre addio al Chelsea e sono d'accordo ieri Lukaku è stato imbarazzante a livello fisico io mi ricordo perfettamente poi magari non in questo contenuto se no diventa lunghissimo vi spiegherò perché paragono la partita negativa di Lukaku di ieri a Fiorentina-Inter di Coppa Italia dell'anno dello Scudetto dove Lukaku segna di testa al 118esimo il gol del 2-1 e l'Inter passa il turno ma prima di quel gol Lukaku fa una partita veramente molto molto simile a quella di ieri poi magari in diretta vi spiegherò perché mi ricordo bene questa cosa partita terribile di Lukaku che evidentemente risente di una condizione fisica non ancora al top ed è normale io però vorrei aggiungerci una piccola parentesi che riguarda il Monza perché il Monza ha fatto una grande partita ha fatto 90 minuti a mille all'ora non è mai calata di intensità e ha fatto anche delle fasi in cui ha letteralmente schiacciato l'Inter nella sua tre quarti difensiva e è riuscita lo facevo notare anche ieri intorno al settantesimo nonostante la voglia di andare a pareggiare la partita quindi la propensione offensiva e comunque dei valori tecnici inferiori è riuscita a tenere le linee molto strette molto compatte e questo è stato anche uno dei problemi che ha messo in difficoltà Lukaku perché Lukaku non ha mai avuto sufficiente spazio per poter correggere gli errori che invece poi la condizione fisica lo ha portato a fare negli stop e nella gestione dei palloni veramente devo dire che il Monza ha fatto una grande partita e secondo me ha meritato ampiamente il pareggio al di là dell'episodio arbitrale di cui abbiamo già parlato a centrocampo poi purtroppo le riserve sono queste quando giocano in campo tutti insieme le due riserve Galliardini-Aslani più Mkhitaryan che era in campo dal primo minuto dei rischi ci sono piuttosto evidenti la cosa principale che imputo ad Inzaghi e vado verso la chiusura è una in questo senso e lo dico in funzione delle prossime partite anche se lo dico da tempo in realtà chi ci segue lo sa diamo spazio a Robin Gossens ragazzi nella partita di ieri dove fanno male il 90% dei giocatori e fanno male 4 subentrati su 5 l'unico che fa bene si chiama Robin Gossens non perché abbia fatto chissà che cosa ma come sempre impatto importante voglia determinazione attenzione se tutti i giocatori fossero scesi in campo con la voglia e l'attenzione che ha Robin Gossens ogni volta che scende in campo l'Inter avrebbe vinto ieri senza il minimo dubbio quindi alla luce del fatto poi ci aggiungo che Di Marco non mi sembra nel momento migliore della sua stagione perché anche ieri ha fatto fatica contro il Napoli tolto l'assist che lo voglio un attimo mettere da parte non ha fatto una bella partita l'abbiamo analizzata al tempo qualche giorno fa è arrivato il momento in un gennaio compresso dove si gioca ogni tre giorni di lanciare Gossens e di non gestirlo più come una riserva che deve giocare agli ultimi dieci minuti non è più possibile quindi io mi auguro innanzitutto che in Coppa Italia giochi perché è una delle partite in cui si può mettere in campo chi ha bisogno di minuti e che inizia ad essere considerato non dico alla pari di Di Marco ma un po' più di una riserva perché sta dando finalmente delle risposte più importanti rispetto a quelle che ha dato prima dei mondiali e merita secondo me di trovare spazio ultimo tema molto veloce il vero problema dell'Inter e lo sappiamo tutti qual è ragazzi la difesa anche ieri due gol subiti i numeri dicono che l'Inter adesso ha 24 24 gol subiti in totale di cui 20 in trasferta sono due numeri che fanno accapponare la pelle che non sono minimamente tollerabili io vi do due termini di paragone curiosi li metto per curiosità la prima Inter di Spalletti quella che arriva quarta con il gol di Vecino nell'ultima gara con la Lazio arriva quarta con 30 gol subiti la seconda Inter di Spalletti quella dell'anno successivo che arriva ancora quarta con la vittoria interna all'ultima giornata con l'Empoli arriva quarta con 33 gol subiti in tutto il campionato qui siamo a meno della metà perché mancano ancora tre giornate al giro di Boa e l'Inter è già a 24 noi possiamo dire quello che vogliamo ma finché non aggiusteremo questa maledetta fase difensiva possiamo anche segnare 140 gol in una stagione perché poi dall'altra parte l'Inter di Spalletti segnava molto meno dell'Inter di Inzaghi è ovvio ma se non sistemi la fase difensiva certe partite non le aggiusti nemmeno se segni tanto e la dimostrazione è proprio la gara di ieri una dimostrazione simile poteva essere Fiorentina-Inter dove tu fai tre gol ma per poco non la pareggi se poi non hai l'episodio favorevole di Michi Tariana all'ultimo dall'altra parte la Juventus che attualmente è seconda in classifica con una gara in più di Milan-Napoli eccetera però è seconda ha subito sette gol sette gol seconda in classifica Inter quarta in classifica 24 gol non è normale e questo è assolutamente un problema qui sì di Simone Inzaghi che sa come si fa perché una cosa che tutti dimenticano l'Inter di Inzaghi dell'anno scorso è la miglior difesa del campionato se non sbaglio o comunque forse non è la migliore per un gol solo ma comunque prende meno gol dell'Inter di Conte dell'anno prima che vince lo Scudetto quindi non è vero che Inzaghi non sa come si fa a far difendere le squadre quest'anno però sta sbagliando qualcosa qualcosa stanno sbagliando i giocatori perché col Napoli giocano screener a cerbi e bastoni e Politano Kvarazkeli e Osimen non si vedono in campo con il Monza giocano screener a cerbi e bastoni e fai sti errori qua e allora non è possibile c'è qualcos'altro che interviene il primo gol di Ciurria è una roba inguardabile per come nasce perché sono quattro giocatori che marcano il possessore di palla Ciurria taglia dietro a tutti e quattro nessuno che lo guarda e arriva a questa traccia interna da cui poi si origina il gol bisogna risolvere questo problema a livello organizzativo tattico ma soprattutto mentale perché secondo me con i giocatori che all'Inter e soprattutto con questa differenza anche tra casa e trasferta al netto del fatto che la maggior parte dei big match li abbiamo giocati in trasferta quindi anche questo sicuramente conta però non è normale che l'Inter prenda 20 gol in trasferta e 24 totali in 16-17 partite non è normale questi sono i punti più caldi che ho voluto affrontare in questo contenuto in aggiunta a quelli che abbiamo già affrontato ieri quindi vi ricordo ancora una volta un mi piace e un'iscrizione al canale il club di Passione Inter www.passioneinter.club ieri abbiamo siamo andati avanti a parlare fino oltre le due di notte dopo la diretta all'interno del club con i nostri abbonati ed infine per chi ci segue in podcast lo lascio in descrizione se invece mi segui su YouTube qui alla mia destra ti lascio le pagella dei tifosi se non l'hai ancora vista vai a vederla e lasciaci qualche commento con le tue valutazioni Grazie a tutti